Splendida notizia per il grande attore, che sarà papà per la quarta volta a 57 anni. La sua fidanzata Vip, che ha invece 27 anni, è incinta come confermato da lei stessa sui social. La ragazza, che dunque è più giovane di lui di ben 30 anni, ha annunciato la gravidanza con tre foto postate sul suo profilo Instagram ufficiale. Già evidente il pancione della quasi mamma. L'attore diventerà papà per la quarta volta tra pochi mesi. Per lei si tratterà invece del primo figlio in assoluto. La 27enne ha scritto sui social, mamma ti aspetta. PS, fotografie scattate dalla nonna. Poi il Daily Mail ha ribadito la notizia, rivelando che lei e il 57enne stanno per diventare genitori, sebbene lui non abbia ancora rilasciato una dichiarazione. Anche l'attore sarà sicuramente felicissimo di diventare papà per la quarta volta nella sua vita. La sua fidanzata è una nota modella, la bellissima Nara Baptista, che si è fatta vedere col sorriso stampato in faccia e con la sua mano sul pancione. La loro relazione è stata resa ufficiale a novembre del 2023, quando lei aveva pubblicato un'immagine con lui, scrivendo, Buon compleanno tesoro. Il quasi papà per la quarta volta è Vincent Cassel, che ha avuto in passato due figli da Monica Bellucci, che si chiamano Deva e Leonie, e una dalla seconda moglietina Kunakei, Amazonie Cassel. Nessuna immagine per ora in compagnia dell'attore, anche se non ne conosciamo la motivazione. Per Vincent Cassel e Nara Baptista il primo red carpet ufficiale c'è stato al Festival di Cannes lo scorso mese di maggio, prima della proiezione del film Partenope di Paolo Sorrentino. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.